Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ho deciso di portarvi il caso di Ruby Frankie, una donna molto conosciuta sul web perché nel gennaio del 2015 aveva creato un canale YouTube di successo chiamato 8 Passenger, che contava circa 2,8 milioni di iscritti. I video che Ruby pubblicava consistevano in vlog a tema famiglia, quindi filmava se stessa, suo marito Kevin e i suoi sei figli per poi realizzare dei contenuti da caricare sul canale. Nel corso degli anni però, gli spettatori avevano consolidato l'idea che Ruby e Kevin non fossero in realtà dei genitori particolarmente amorevoli. Ma procediamo con ordine, come al solito. Ruby Frankie nasce il 18 gennaio del 1982 e cresce nello stato dello Utah con i suoi genitori Chad e Jennifer Griffith. Ha anche tre sorelle di nome Bonnie, Ellie e Julie e un fratello di nome Bo. Non sono noti particolari dettagli sull'infanzia di Ruby, ma si ritiene che si è cresciuto in una famiglia molto unita, infatti era legata a tutti i parenti del nucleo. I genitori di Ruby hanno sempre assecondato i desideri dei loro figli e questo lascia presumere che abbiano vissuto tutti un'infanzia fantastica. La famiglia è membro della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e la religione riveste un ruolo importante nell'educazione dei Griffith. A questo proposito si diceva che Ruby fosse in grande sintonia con sua madre, ma le sorelle poi hanno smentito, spiegando che fin da bambina Ruby non aveva un carattere gentile. Anzi, era profondamente egoista, non voleva mai condividere le proprie cose con le sorelle, pensava di essere più carina di loro e di conseguenza si sentiva superiore a tutte. Inoltre, in qualità di sorella maggiore, spesso comandava bacchetta alle più piccole. Addirittura, Ruby era solito appropriarsi di tutti gli articoli sanitari presenti in casa, ad esempio rubava gli assorbenti dal bagno e li teneva per sé senza darli alle sorelle nel momento del bisogno. Sempre secondo il parere delle sorelle, Ruby è incredibilmente competitiva, ha sempre fatto di tutto per risultare come la migliore. Tuttavia, quando era adolescente, non aveva tanta fiducia in se stessa, quindi forse il suo ostentare sicurezza era un atteggiamento di facciata. Già a quei tempi, l'unico obiettivo di Ruby era quello di sposarsi. Durante l'ultimo anno di liceo, si fidanza ufficialmente, ma la storia finisce presto perché il suo ragazzo viene sorpreso a tradirla. Di conseguenza, i due si lasciano. All'età di 18 anni, Ruby inizia a frequentare la Utah State University, ma il suo obiettivo principale rimane quello di sposarsi. Insomma, non punta realmente a fare carriera, infatti si è iscritta al college per incontrare un potenziale marito. Proprio durante il suo primo anno all'università conosce Kevin Franke, che alloggia nel suo stesso complesso di appartamenti, quindi ogni tanto i due si incrociano e si scambiano un saluto. Un giorno Kevin chiede a Ruby di uscire, gli sembra una ragazza interessante e lei accetta. Kevin si innamora di Ruby molto in fretta, la trova divertente e simpatica. Anche lei flirta con Kevin, si dimostra interessata a lui, ma la verità è un'altra. Siccome il suo intento primordiale è quello di trovare un marito, in realtà Ruby all'interno del college flirta un po' con chiunque. La ragazza nella sua testa ha una visione ben definita di come dovrebbe essere un marito perfetto. È così ossessionata da questo obiettivo che sulla porta della sua stanza nel dormitorio appiccica una lista di tutti i requisiti che il suo futuro sposo deve avere. Kevin a volte entra nella camera di Ruby quando lei non c'è, fingendo di voler parlare con la sua coinquilina. È proprio quest'ultima che gli mostra il contenuto della lista redatta da Ruby per trovare il fidanzato perfetto. e Kevin già innamorato la legge con attenzione. Non solo la memorizza per poi fingere di essere la persona che Ruby vuole accanto. Kevin altera la propria personalità per entrare nel ruolo del ragazzo ideale di Ruby e riesce nell'obiettivo di farla innamorare di lui. Ruby è convinta che Kevin sia il ragazzo perfetto per lei, quindi ben presto i due ufficializzano la relazione annunciandola ai genitori dell'uno e dell'altra. Ruby è innamorata di Kevin o della persona che lui sta fingendo di essere e si innamora pure della sua famiglia. Anche i genitori di Kevin sono membri della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, quindi condividono gli stessi valori. A distanza di sole due settimane, Ruby chiede a Kevin di sposarla e lui accetta. Appena tre mesi dopo, il 28 dicembre del 2000, Kevin e Ruby si sposano e iniziano il loro secondo semestre all'università come marito e moglie. In realtà, mentre Kevin riprende a studiare duramente per conseguire la laurea in ingegneria civile, Ruby, ora che ha raggiunto il suo vero obiettivo, che è quello di meritarsi, abbandona il college. Ora Ruby prosegue con il secondo obiettivo coerente con il primo, creare una famiglia numerosa. Appena 18 mesi dopo, il matrimonio rimane incinta per la prima volta e il 3 marzo 2003 dà la luce la sua prima figlia, Sherry. Dopo la nascita di Sherry, Ruby mette al mondo altri bimbi, partorendo più o meno ogni due anni. Il suo secondo figlio, Chad, nasce nel febbraio del 2005. La sua terza figlia, Abby, nasce nell'aprile del 2007. La sua quarta figlia, Julie, nasce nel gennaio del 2009. Il suo quinto figlio, Russell, nasce nel luglio del 2011. La sua sesta e ultima figlia, Eve, nasce infine a settembre del 2013. In questo periodo, Kevin si laurea in ingegneria dei motori civili e trova lavoro come associato presso la Brigham Young University. La famiglia ora, composta da otto persone, si stabilisce in un'altra casa, sempre nello Utah. Sembrano tutti molto felici e Ruby, mentre a casa occuparsi dei bambini, viene colta da un'illuminazione. Prende in mano la sua videocamera e inizia a registrare dei vlog sulla sua famiglia. È il gennaio del 2014 quando la donna comincia a bazzicare su YouTube. Il primo video che carica si intitola The Making of Eve e mostra Ruby circondata dalla sua famiglia che taglia una torta per rivelare il sesso della sua ultima figlia. Inizialmente, i video che carica sono amatoriali, monta una serie di clip di momenti diversi senza perseguire uno scopo preciso e non racconta nulla di particolare. Ma, col tempo, questi brevi video casalinghi pubblicati da Ruby ottengono diverse visualizzazioni e il suo canale guadagna un piccolo ma fedele gruppo di iscritti. Nel 2015, YouTube inizia a porsi come una piattaforma che offre occasioni interessanti per molti creator. Infatti, la maggior parte dei canali viene aperta proprio durante quell'anno. I vlog in questo periodo catturano molto l'attenzione del pubblico, specialmente quelli a tema familiare. Gli spettatori adorano vedere gli stralci della vita quotidiana di questo tipo di YouTuber. E Ruby se ne rende conto, riesce a percepire la potenzialità dei suoi piccoli video amatoriali che può trasformare in qualcosa di più grande. Così sviluppa il canale 8 Passengers. Ruby diventa ossessionata da YouTube e ora ha un nuovo obiettivo, far diventare famosa la sua famiglia tramite i vlog. Inizia quindi a pubblicarli ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 18. Come detto, tutti i contenuti riguardano la sua famiglia, in particolare i suoi figli. Mostra le interazioni quotidiane, gli alti e i bassi della vita familiare e arriva addirittura a dare consigli ai genitori che la seguono, ad esempio spiegando come cucinare dei pasti per famiglie numerose. Ruby comincia a portare la videocamera con sé ovunque quando va a fare shopping, quando ha degli appuntamenti dal medico, quando accompagna i figli a scuola, quando tutta la famiglia fa una gita fuori porta o durante le vacanze. Ma non è finita qui perché Ruby riprende anche le conversazioni che ha con i suoi figli. Si sa, i bambini a volte sono capricciosi, piangono e quando Ruby gli si avvicina per capire quale sia il problema lo fa sempre con in mano la videocamera. La famiglia Frankie inizia a vivere davanti a una videocamera quasi come in un reality. Ruby, che istruisce a casa suo figlio maggiore Chad, pubblica molti contenuti in cui gli impartisce le lezioni corrispondenti al programma della quinta elementare. Si rivolge quindi agli altri genitori ed elargisce consigli su come istruire in casa i propri figli. Sul canale YouTube Ruby parla tanto anche della sua religione e il fatto che i Frankie siano una famiglia mormone attira parecchi utenti che professano la stessa religione. Ruby vuole far sapere che sono una famiglia molto credente ma anche molto unita. Col tempo il canale continua a crescere sempre di più. Ogni giorno nuovi iscritti lo popolano per scoprire cosa fa la famiglia Frankie. Un anno dopo la creazione, nel gennaio del 2016, 8 Passengers conta 30.000 iscritti. Sono riuscita a trovare un articolo di un giornale locale che proprio nel gennaio 2016 racconta di Ruby e del suo canale YouTube di successo. Il giornalista che intervista Ruby le chiede perché avesse deciso di crearlo e lei risponde che sentiva che i suoi figli stavano crescendo troppo in fretta. Quindi prendere la videocamera e registrare era un modo per rallentare il tempo e vivere il momento. Onestamente io credo che vivere a pieno il momento sia l'esatto opposto a di registrare ogni cosa in modo ossessivo. Ma non è questo l'unico motivo che ha spinto Ruby a creare 8 Passengers. Infatti afferma che tramite il suo canale YouTube vuole mostrare ai suoi figli e agli altri il potere che può avere una madre. Durante la stessa intervista dichiara che quando riprende i suoi figli per lei si realizza un promemoria quello di divertirsi e stare con loro e di accettarli così come sono in quel momento. Nei successivi 18 mesi quindi dal gennaio 2016 all'agosto 2017 il canale YouTube passa da 30.000 a 1 milione di iscritti e questa ve lo assicuro è davvero una crescita pazzesca. Ruby in effetti stenta a crederci il suo obiettivo si sta realizzando e col passare del tempo i video iniziano a ottenere milioni di visualizzazioni ad esempio un video di 5 anni fa che si intitola So am I sick riceve un totale di 23 milioni di visualizzazioni in un altro video intitolato Baby climbs out of crib riceve un totale di 20 milioni di visualizzazioni tanti altri video presenti sul canale di Ruby ottengono circa 10 milioni di visualizzazioni e nel dicembre del 2018 arriva a contare 2 milioni di iscritti mentre nel 2019 raggiunge 2,5 milioni di iscritti Elite Passengers in pratica diventa uno dei canali più seguiti per quanto riguarda i vlog familiari sulla piattaforma youtube i video ottengono 25 milioni di visualizzazioni ogni mese e la famiglia Frankie sta guadagnando davvero tanti soldi Ruby ha affermato che lei e la sua famiglia guadagnano milioni solo tramite le visualizzazioni del canale e questi non sono gli unici profitti conseguiti da Ruby perché un canale youtube così famoso viene richiesto anche per lanciare delle sponsorizzazioni tutto questo successo però dà la testa Ruby che inizia a vantarsi di quanto si è diventata ricca indubbiamente lei sta vivendo il sogno di molti il canale che gestisce è uno dei più grandi su youtube nell'ambito dei vlog per famiglie ma comincia anche ad attrarre una certa attenzione negativa perché Ruby mentre si riprende fa e dice cose discutibili in realtà per quanto mi riguarda già in generale i canali di vlog che trattano argomenti legati alla famiglia sono controversi infatti da anni è attivo un dibattito sulla piattaforma in merito a questi contenuti ci si domanda se i canali di questo tipo siano etici è giusto filmare i propri figli e metterli in mostra su internet i bambini non possono consentire sono troppo piccoli per capire se questa scelta sia giusta per loro riprenderli è quindi un'invasione della loro privacy questa esposizione potrebbe influenzarli negativamente in futuro quando diventeranno adulti devo ammettere che questo tipo di contenuti mi rimanda al pensiero del lavoro minorile detto che canali del genere diventano famosi grazie alla partecipazione dei bambini se i loro gestori eliminassero anche solo per un mese i bambini dai video vi assicuro che non otterrebbero tutte quelle visualizzazioni inoltre mi domando visto che i video hanno successo e ottengono tante visualizzazioni che comportano delle entrate finanziarie questi bambini vengono pagati? mi sfigo meglio parte del denaro guadagnato viene accantonato in un fondo fiduciario in modo che possano accedervi quando diventeranno maggiorenni infine io credo che i bambini debbano continuare a fare i bambini se partecipano a questi video sì guadagnano dei soldi utili alla famiglia ma vengono essenzialmente sfruttati perché non possono prestare il loro consenso e io lo dico chiaramente se la mia infanzia fosse stata ripresa e sbattuta su internet non ne sarei stata felice una volta cresciuta la fortuna è che sono nata negli anni 90 e quindi internet non era così dominante nella mia vita e nella vita dei miei genitori mio padre usava internet perché aveva un lavoro di un certo tipo ma internet non ce l'avevamo in casa in pratica penso che questo è un argomento davvero spinoso tutti i canali di questo tipo sono discutibili ma il problema principale che si riscontra in quello di ruby non è tanto l'esposizione dei figli in bella mostra su internet quanto il suo rigido stile genitoriale negli anni infatti diventa chiaro per tutti che lei è un'educatrice molto severa ruby vuole crescere i suoi figli in modo che siano indipendenti vuole che pensino con la loro testa che siano umili e onesti desidera anche che siano consapevoli delle proprie azioni e delle proprie parole e che siano responsabili a primo impatto tutte queste cose non vi sembrano negative giusto? ebbene io non credo che ruby conosca davvero il significato di queste parole onestamente è paradossale che ruby voglia che i suoi bambini siano umili quando lei per prima non lo è un giorno ruby sta riprendendo la sua giornata come fa sempre è seduta in macchina e riceve un messaggio dall'insegnante di Eve che ha solo 5 anni e frequenta l'asilo nel messaggio la maestra spiega che la bimba si è dimenticata di portare il pranzo a scuola e chiede a sua madre di venire a portarglielo ora vi faccio una domanda ogni madre di fronte all'eventualità che la figlia resti digiuna si precipiterebbe a scuola no? ma ruby dopo aver letto questo messaggio decide di discuterne con i follower rimanendo fiondata davanti alla videocamera in modo molto serio ruby dice che Eve è responsabile del suo pranzo Eve ha il compito di prepararselo da sola e poi di portarla a scuola con sé dato che Eve una bimba di 5 anni 5 deve essere autonoma è un suo problema si è dimenticato di portare il pranzo a scuola quindi ora deve soffrire la fame sì esatto ruby usa proprio queste parole soffrire la fame o ancora morire di fame tutto il giorno per ruby è una giusta lezione a fronte della dimenticanza della figlioletta chiariamo non c'è niente di sbagliato nel cercare di incoraggiare i propri figli a essere indipendenti anzi tutt'altro posso condividere l'idea che i ragazzini se i loro genitori hanno altri impegni debbano essere in grado di prepararsi un panino da soli ma non Eve che ha appena 5 anni inoltre ruby risponde all'insegnante che non solo non porterà il pranzo a Eve ma aggiunge sempre riprendendosi si spera che nessuno le dia del cibo ovviamente gli spettatori del video si indignano si leggono molti commenti con scritto ma come puoi fare questo a tua figlia di 5 anni in poco tempo la clip si diffonde su internet e questo è l'esordio di una situazione critica per ruby sì le questioni discutibili o problematiche esistevano già prima di questa clip ma è proprio il comportamento di ruby a portare il canale sotto i riflettori 8 passengers inizia a destare un'attenzione molto negativa tuttavia ruby non impara la lezione non cambia il suo comportamento quindi il pubblico di senso cresce sempre di più agli spettatori disturba l'atteggiamento di ruby che mette all'angolo i suoi figli e filma momenti molto privati è chiaro che i bambini sono a disagio spesso non vogliono essere ripresi quando shari ha il suo primo ciclo mestruale ruby tira fuori la videocamera per immortalare il momento chiede a sua figlia come si sente a riguardo fa di tutto per ottenere visualizzazioni e soldi sembra che ormai sia l'unica cosa che le importa non le frega niente se shari si sente in imbarazzo a parlare del suo ciclo mestruale a favore di camera è come se già non bastasse ruby riprende le sue figlie pure mentre si radono le gambe e sotto le ascelle e mette a disagio il figlio maggiore chad leggendo i suoi messaggi durante un video ancora se i suoi figli non rispettano la sua lista di regole sempre più lunga ruby li priva del cibo in un altro video infatti dice che non permetterà ai ragazzini di fare colazione finché non finiranno i loro compiti in un'occasione i bambini sono costretti a pulire completamente il garage in cambio di qualche panino inoltre ruby cerca di isolare i suoi figli il più possibile sequestra loro i dispositivi elettronici ma i maltrattamenti non finiscono qui in un'altra circostanza eve non riesce a svegliarsi da sola in tempo per andare a scuola e dato che la bambina deve essere responsabile di se stessa ruby decide di non svegliarla di conseguenza eve salta per un giorno intero la scuola materna un'altra volta eve dimentica la sua giacca da sci a scuola il giorno prima delle vacanze di natale dopo le lezioni alcuni addetti prendono gli oggetti rimasti incustoditi e li consegnano ai bisognosi così eve quando lo scopre dice a sua madre potresti comprarmi una giacca nuova ma ruby piuttosto le nega di andare in gita sulla neve con loro è assurdo anche considerando che ruby intasca una marea di soldi pure grazie alla partecipazione di eve nei video e invece la bambina viene lasciata a casa ruby racconta in un video che ha risposto a eve no non è così che funziona qui non ti comprerò una nuova giacca da sci se l'hai persa hai perso anche il privilegio di venire a sciare con noi in un altro video ruby afferma che prenderà un paio di forbici e taglierà la testa a uno dei peluche di eve e questo credo sia davvero profondamente crudele eve scoppia a piangere disperata e vi sottolineo che in questo clip ha circa sei anni è una bambina piccola in un'altra occasione la famiglia finisce la carta igienica e ruby impedisce a tutti i bambini di usare il bidet che è presente nel suo bagno vicino alla camera da letto ruby dice loro che gli permetterà di fare il bidet solo se svolgeranno abbastanza lavoretti nel corso della settimana e fa pure di peggio se i bambini mentre sono a scuola si sentono male ruby si rifiuta di andarli a prendere per far sì che esca di casa devono dirle che hanno vomitato almeno due o tre volte solo in questo caso è disposta ad andarli a prendere in un altro episodio shari ha bisogno di essere portata d'urgenza al pronto soccorso perché le sia offuscata la vista questo potrebbe essere un problema serio ma ruby impiega un'ora nel bagno a prepararsi e anche in questo caso riprende tutto questa donna si trucca poi lava il bagno sistema il tappeto e infine dice credo di essere pronta a portare mia figlia in ospedale alla buon'ora alla buon'ora più tempo passa più l'opinione negativa sul canale youtube si rifonde tutto è iniziato col pranzo negato a Eve e gli utenti ora guardano i video solo per ricogliere ruby in errore e ruby di errori ne commette davvero tanti per quanto mi riguarda mia opinione è una donna spietata in questo periodo i canali di gossip americani attraverso alcuni video parlano proprio di ruby e dei contenuti allarmanti che pubblica su youtube alcune clip tratte dai suoi video più criticati vengono riproposte su tiktok e attirano commenti a dir poco negativi tuttavia il canale hate passengers continua a crescere perché anche il dissenso apporta nuovi iscritti curiosi la gente parla di ruby e chi non la conosce inizia a vedere i suoi video per capire quale sia il problema le visualizzazioni portano guadagni costanti quindi a ruby non interessa che si critichi lei e il suo canale la celebre frase nel bene o nel male purché se ne parli mi sembra particolarmente appropriata per questo caso fino ad ora ci siamo concentrati su ruby ma ora puntiamo l'attenzione su kevin suo marito lui appare in alcuni video ed è chiaramente complice d'accordo con tutto ciò che fa la moglie solo in seguito kevin sosterrà di essere stato anche lui una vittima di ruby forse dice la verità ma dai video sembra che a kevin non importi che i suoi figli vengano maltrattati tra l'altro ruby non è l'unica youtuber della famiglia come detto la donna ha tre sorelle e anche loro pubblicano tutti i video su youtube ruby e le sue sorelle hanno iniziato a realizzare il vlog più o meno nello stesso periodo intorno al 2015 e anche le altre mostrano i loro figli nei video a dirla tutta pure i genitori di ruby hanno un canale youtube e sono tutti canali che riscuotono un discreto successo ruby conscia della popolarità che tutta la sua famiglia sta ottenendo su youtube decide di aprire dei canali sulla piattaforma anche per i suoi due figli maggiori shari e chad il canale di shari arriva a collezionare 471.000 iscritti mentre quello di chad ne raggiunge 144.000 non so se questi ragazzi fossero obbligati a fare video ma li pubblicano regolarmente ottenendo anche loro moltissime visualizzazioni dovete sapere che ho guardato molti vlog di hate passengers che ora è stato rimosso ma si possono ancora trovare alcuni video online e ho provato disagio nel vedere che spesso sono i figli di ruby a fare le riprese per il canale della madre mi sono chiesta perché lei avesse smesso di occuparsi di filmare gestire modificare e postare i contenuti visto che era una sua responsabilità invece sembra quasi che ruby avesse forzato i suoi figli a continuare il lavoro per lei in più di un'occasione shari accenna ai fan che i suoi genitori non sono a casa mentre registra i suoi video perché sono partiti questo vuol dire che Kevin e ruby vanno in giro a spassarsela mentre i loro figli rimangono a casa a produrre contenuti per farli guadagnare la mia sensazione personale che non deve essere per forza condivisa da voi anzi fatemi sapere cosa ne pensate è quella che ruby avesse già un piano ha creato a tutti i suoi figli dei canali youtube da gestire a loro piacimento diventando la loro manager arriviamo ora alla primavera del 2020 quando il canale Aid Passengers è vittima di un'altra controversia questo accade perché ruby riprende suo figlio Chad che ora ha 14 anni mentre afferma di essere stato mandato in un campo di assistenza sanitaria comportamentale all'aperto dalla durata di 10 settimane la terapia in questione nota come Wilderness Therapy è progettata per intervenire sui comportamenti di bambini o ragazzini problematici non so esattamente cosa abbia fatto Chad per essere classificato come un ragazzino problematico ruby spiega che era stato espulso di nuovo da scuola ma non si sa per quale motivo durante quelle 10 settimane in cui Chad era rimasto al campo era stato costretto a partecipare a regimi di allenamento estremi e a dormire su un freddo e duro pavimento di cemento ogni notte quindi ruby mentre inquadra se stessa e Chad nel video ribadisce che i suoi figli devono assumersi la responsabilità di prendersi cura di loro stessi se non lo fanno i loro averi gli saranno portati via a questo punto Chad interviene spiegando che questa cosa è successa a lui di recente detto che si era dimostrato un irresponsabile gli erano stati portati via alcuni dei suoi effetti personali e voi penserete ma forse gli hanno sequestrato la playstation o il cellulare ma purtroppo no a Chad è stato impedito di disporre della sua camera da letto per sette mesi ha dormito su un puff una di quelle poltroni a sacco molto morbide mi chiedo come si faccia a infliggere una punizione del genere a un ragazzino di 14 anni e poi vi chiedo cosa avrà mai fatto Chad per meritarsela ebbene ha solo fatto qualche scherzo a suo fratello minore basta niente di più sono stata ragazzina anche io come tutti voi e ricordo che la mia camera era tutto il mio mondo era il mio posto sicuro credo che impedire a un ragazzino di stare nella propria camera da letto sia davvero un gesto imperdonabile mi chiedo come faccia Ruby a filmarsi mentre afferma cose di questo tipo a esportare il video sul computer a montarlo per poi pensare ok questo contenuto è adatto per youtube lo posterò boh io non posso credere che reputi normali sequestrare la camera da letto a un ragazzino e costringerlo a dormire su un puff per sette mesi scusate non riesco a crederci infatti quando carica il video che succede molti utenti scagliano commenti feroci perdono letteralmente la testa sono tutti indignati Ruby allora si affetta a rimuovere il contenuto da youtube ma ne rimane comunque una traccia su internet come sempre accade infatti altre persone hanno già scaricato quel video e le clip in cui Chad racconta della sua punizione si diffondono sul web a macchia d'olio molti altri canali parlano di questa clip che fa notizia sia a livello nazionale che internazionale i giornali scrivono titoli come genitori youtuber accusati di abusi sui minori così 8 passengers perde diverse fonti di guadagno perché le aziende che si affidavano al canale per sponsorizzare i propri prodotti o servizi adesso si allontanano non vogliono di certo essere associate al nome di Ruby and Family anche youtube inizia a demonetizzare alcuni video del loro canale insomma sembra che questo impero social stia crollando solitamente quando si commettono questi scivoloni gli youtuber o gli influencer di turno pubblicano un video di scuse si mostrano dispiaciuti e cercano di riconquistare la fiducia degli utenti e basti vedere come si è comportata Chiara Ferragni ok quello per me è proprio l'esempio lampante poco dopo lo scandalo diciamo che ha preso il telefono ha avviato un video e ha chiesto scusa ma non è questo ciò che fa Ruby in realtà ragazzi la donna piuttosto si mette sulla difensiva e sostiene che la gente decontestualizzi le sue affermazioni ma non ci sono modi distorti di interpretare quello che lei ha detto e raccontato parliamo di fatti volontariamente narrati a favore di camera in presenza di suo figlio vittima del sopruso quindi perdonatemi dove sta questa decontestualizzazione delle sue parole Ruby aggiunge anche che tutto quanto le sta accadendo fa parte della cancel culture ossia della cultura della cancellazione perché al giorno d'oggi le persone sono troppo sensibili e si scioccano per delle stupidate a un giornalista riferisce che stava solo mostrando come si comporta una madre responsabile poi Ruby decide di assumere un team di avvocati che deve intervenire prontamente non appena un altro youtuber afferma qualcosa di negativo su di lei e sul suo canale alcuni youtuber infatti vengono costretti a rimuovere i loro video di critiche dunque Ruby pensa di star vincendo la battaglia tuttavia internet che fa reagisce perché la donna non cambia mai i suoi modi di fare continua a comportarsi come un genitore abusivo qualcuno un giorno decide addirittura di lanciare una petizione sul sito change.org chiedendo che il Child Protective Service detto anche CPS faccia un'indagine approfondita su Ruby e la sua famiglia in poco tempo questa petizione ottiene 18.000 firme molte persone telefonano anche direttamente al CPS per presentare i loro reclami e questa mossa funziona perché nell'estate del 2020 ovvero poco più di 5 anni dopo che Ruby ha creato il suo canale YouTube l'agenzia di protezione dell'infanzia fa una visita a casa della famiglia Frankie tuttavia quando il CPS bussa alla sua porta Ruby non sembra sorpresa della visita anzi mette in scena la sua migliore performance mostrandosi come un genitore straordinario Ruby deve aver detto ai bambini che devono comportarsi al meglio infatti quando il CPS entra in casa loro sorridono tutti felici sua figlia più piccola Eve è seduta al tavolo a giocare con un puzzle alcuni degli altri bambini fanno i compiti in silenzio mentre Ruby sta per infornare del pane fatto da lei chiaramente danno vita all'immagine della famiglia perfetta così Ruby riesce a ingannare il CPS credo che questa situazione sia davvero frustrante ed esasperante come possono degli assistenti sociali professionisti cascare e ne un teatrino così imbarazzante ci sono delle prove inconfutabili che Ruby sta maltrattando i suoi figli è sufficiente guardare i contenuti che lei stessa ha pubblicato su internet il fatto che i figli di Ruby fossero seduti composti a fare i compiti non ha alcun valore non significa che stanno bene il fatto che Eve se ne stesse tranquilla a giocare con un puzzle non è sinonimo di benessere le viene comunque negato il cibo per punizione santo cielo tuttavia non vengono condotte ulteriori indagini e la situazione non fa che peggiorare sempre di più passano altri 18 mesi e Ruby sta ancora attuando dei comportamenti che allarmano il pubblico anche se molte persone cercano di diffondere la consapevolezza dell'operato dannoso di Ruby nessuno interviene poi nel gennaio del 2022 Ruby decide che non vuole più pubblicare dei video su youtube perché parole sue vuole salvare i suoi figli dall'attenzione negativa che stanno ricevendo quanto sostiene è purtroppo vero i figli di Ruby sono diventati vittime di bullismo a scuola nessuno di loro riesce a stringere delle amicizie attraversano tutti dei momenti difficili ricordate però che è Ruby quella che ha deciso di filmare le loro vite private ed esporle al mondo intero proprio Ruby che maltrato e trascurre i suoi figli da anni ora dice che vuole salvarli scusatemi trovo che questo sia un atteggiamento a dir poco ipocrita infatti in realtà c'è un altro motivo per cui Ruby ha deciso di smettere di pubblicare i video sulla propria famiglia su youtube è diventata amica di una donna di nome Jodie Hildebrandt e vuole postare altri contenuti insieme a lei e a questo punto vi parlo di Jodie Jodie nasce il 15 giugno 1969 cresce al Salt Lake City nello Utah proviene da una famiglia a mormore molto severa e i suoi genitori sono parecchio distanti da lei emotivamente freddi secondo ciò che racconta Jodie dei 2 e 5 anni ha subito ripetute aggressioni intime esercitate da un ragazzo di 15 anni Jodie ha scritto un libro in cui parla di questa scioccante esperienza e spiega che l'ha portata a diventare emotivamente insensibile ha seppellito il suo trauma dentro di sé portandoselo dietro per tutta la vita dopo essersi diplomata Jodie continua a studiare letteratura inglese alla Brigham Young University e una volta conseguita la laurea prosegue il percorso di studi ottenendo un master in psicologia ascoltate bene nel 2005 diventa una terapista autorizzata e negli anni successivi lavora a tempo pieno come consulente per la salute mentale fino a quando nel 2012 avvia la propria attività chiamata Connection con una X Jodie descrive Connection come una realtà che fornisce servizi di life coaching orientata su un'innovativa modalità di guarigione che la psicoterapia non può offrire Jodie afferma che se scegli di diventare un cliente di Connection hai la possibilità di cito trasformare il tuo dolore in gioia l'attività della donna si concentra principalmente sulla genitorialità e sulle relazioni coniugali sostiene di educare i propri pazienti ai principi della verità a essere più umili responsabili e onesti purtroppo la realtà è un'altra a Jodie soddisfa avere controllo sul prossimo e con i suoi insegnamenti fuorvianti porta le persone a odiare loro stesse ed ecco la parte peggiore la scaltra dottoressa che ha un sacco di clienti e si fa pagare più di 180 dollari all'ora quindi guadagna davvero tanti soldi le tecniche genitoriali che insegna sono però orribili convince i genitori che i bambini sono malvagi e manipolatori esorta madri e padri a non amare i propri figli incondizionatamente a non essere mai emotivamente attaccati a loro in pratica inculca nei genitori l'abitudine di tagliare fuori i bambini dalla loro vita per poter vivere nella verità inoltre crede che i bambini non abbiano bisogno del proprio spazio che a loro non serva la privacy ancora Jodie ritiene che i farmaci per curare i problemi di salute mentale siano una truffa l'unico modo in cui un bambino può garire è vivere nella verità vi ricordo che questa donna ha ottenuto un master in psicologia e che nel 2005 è diventata una terapista autorizzata dunque mi sfugge perché Jodie enfatizzi questo concetto così vago e aleatorio di vivere nella verità riconducendo tutto all'impegno di rispettare tre principi essere regolarmente responsabili impeccabilmente onesti autenticamente umili per rendersi ancora meno sopportabile Jodie è pure omofoba transfobica e razzista crede che i bambini debbano sottoporsi a una terapia di conversione se dichiarano di essere gay inoltre Jodie non ritiene che esista la DHD che è il disturbo da deficit di attenzione per attività e nemmeno il disturbo da stress post-traumatico non esistono infine in colpa le vittime di abitini sia donne che bambini tacciandoli di essere responsabili di ciò che è successo loro perché sicuramente avevano fatto qualcosa per incoraggiare quella violenza vi rendete conto della pericolosità di queste affermazioni? questi sono i concetti che Jodie sta trasmettendo ai genitori che poi dovranno a loro volta insegnarli ai figli Jodie stimola le persone a odiarsi perché se non vivono nella verità non sono degne di nulla non meritano nulla tanto meno la felicità l'altro lato della sua attività come accennato si concentra sulle consulenze matrimoniali e i suoi consigli su come salvare i matrimoni in crisi sono altrettanto pessimi invece di riavvicinare le coppie esortando i partner a risolvere i problemi insieme Jodie le divide spinge le persone a divorziare di solito Jodie durante le sue sedute dà la colpa di tutto ai mariti sembra che odi gli uomini e convince le mogli a lasciarli in quanto sono pessimi compagni di vita bugiardi imbroglioni traditori Jodie rincara la dose affermando che le donne dovrebbero aver paura dei loro mariti perché sono una minaccia sia per loro le mogli che per i figli e a questo punto Jodie spiega anche che i mariti vivono nella distorsione perché sono tutti dipendenti da qualcosa che sia il cibo o il cellulare o il lavoro oppure il sesso Jodie ribadisce alle coppie che devono partecipare a numerose sedute affinché il marito possa guarire smettendola di vivere nella distorsione anche se non è per niente vero Jodie riesce effettivamente a convincere molti mariti ingenui di avere una dipendenza da qualcosa e spesso allude al sesso ai rapporti intimi e i video a luci rosse detto che Jodie è un'esperta manipolatrice coinvolge questi uomini in delle sessioni di gruppo dove vengono esortati a parlare di una dipendenza che neanche hanno ho anche degli esempi da raccontarvi per farvi capire appieno come Jodie si è riuscita a rovinare molte vite ha segnato la fine di innumerevoli matrimoni ha portato molte famiglie ad allontanarsi tante persone sono cadute in depressione a causa sua alcuni ex mariti sono arrivati a pensare di togliersi la vita perché si consideravano delle persone terribili dato che vivevano nella distorsione c'è la storia di un adolescente che viene fatto visitare da Jodie perché secondo i suoi genitori ha una dipendenza dal cellulare Jodie invece riesce a convincerlo che in realtà ha una dipendenza dai contenuti a luci rosse e qui c'è dell'assurdo pensate che questo adolescente simili contenuti non le ha ancora mai visti come può avere una dipendenza da qualcosa che nemmeno ha sperimentato con lo sguardo in ogni caso Jodie coinvolge l'adolescente nelle sezioni di gruppo affinché parli della sua dipendenza dai contenuti a sfondo hard insieme a degli uomini adulti come testimonia al web ci sono numerose recensioni negative online lasciate dai clienti di Jodie e ve ne leggo qualcuna l'autore di una recensione scrive ho visto Jodie per anni ha fatto più danni che altro l'ho vista distruggere famiglie e relazioni è malvagia non posso credere che questa donna stia ancora lavorando un altro recensore scrive questa azienda usa tattiche di lavaggio del cervello per manipolarti e farti sentire in colpa con te stesso stai alla larga da tutti i corsi sono una troffa in un'altra recensione ancora si legge questa azienda rovinerà la tua famiglia attraverso il controllo mentale sono una setta poi finalmente non troppo tempo fa un uomo di nome Adam Steed si fa avanti per spiegare pubblicamente quanto l'attività di Jodie gli abbia rovinato la vita Adam e sua moglie erano andati da Jodie per una consulenza matrimoniale ma invece di ricevere assistenza a fronte dei loro reali problemi Jodie aveva provato a convincere Adam del fatto che soffrisse di una dipendenza per i contenuti hard Adam però in tutta la sua vita aveva visionato un totale di due ore di video a sfondo intimo quindi la sua non si poteva definire una dipendenza Jodie aveva comunque provato a spillargli un sacco di soldi per curare la non dipendenza in questione ma Adam si era giustamente rifiutato perché sapeva di non avere quel problema allora da quel momento Jodie aveva fatto di tutto per rovinargli la reputazione aveva parlato pubblicamente della fasulla dipendenza di Adam dai contenuti a luci rosse affermando che lui rappresentava un pericolo per gli altri e consigliava a chiunque di tenere i bambini lontani da quest'uomo era riuscita a convincere persino la moglie di Adam a non fidarsi più di lui così lei lo aveva lasciato impedendogli di vedere i figli e il poveretto era stato pure cacciato dalla sua chiesa e temporaneamente costretto ad abbandonare il college che stava frequentando Adam purtroppo aveva subito degli auguri intimi da bambino e Jodie ne approfittava per sostenere che ogni volta in cui lui parlava di questi atroci ricordi si palesava la sua natura di pericoloso predatore ma Adam dopo aver ripreso in mano la sua vita porta tutte le prove che ha raccolto contro Jodie al comitato di regolamentazione le viene sospesa la licenza da terapista per un po' ma le viene ugualmente permesso di esercitare la sua professione poi dopo 18 mesi la licenza viene completamente ripristinata come se non fosse mai successo nulla Adam per adesso è l'unico che ha parlato pubblicamente delle malefatte di Jodie e vi ripeto che l'ha fatto di recente quindi chissà quante altre persone in futuro potrebbero farsi avanti per raccontare le loro esperienze negative nonostante tutto Jodie continua ad avere nuovi clienti questo vuol dire che viene ancora pagata decine di migliaia di dollari ogni singolo mese per rovinare la vita delle persone vi potreste chiedere come faccia a ottenere la fiducia dei pazienti così facilmente visto che ci sono delle pessime recensioni sul suo operato beh considerate che la sua chiesa di riferimento continua a raccomandarla e molte persone si fidano della parola della chiesa di conseguenza si affidano a Jodie spero con tutto ciò che vi ho raccontato di essere riusciti a illustrarvi una panoramica generale su quanto sia malvagia Jodie è davvero una donna crudele ma ora torniamo a Ruby è il 2022 la donna ha deciso che vuole smettere di postare i contenuti sui propri figli su youtube e decide di diventare socia in affari con Jodie l'aveva incontrata per la prima volta ben due anni prima nel 2020 quando l'aveva assunta come terapista di suo figlio Chad dunque per due anni Jodie ha fatto da life coach al ragazzino poi Ruby l'ha assunta come sua consulente matrimoniale infatti nel 2022 il rapporto tra lei e Kevin è profondamente in crisi anche in questo caso Jodie si mette d'impegno per sabotare la coppia già poco idilliaca afferma che anche Kevin come ogni uomo vive nella distorsione secondo Jodie è dipendente dal cellulare dallo sport e dal lavoro così il marito colpevole viene costretto a unirsi a un altro gruppo di malcapitati per parlare delle proprie fantomatiche dipendenze in un'altra occasione decisamente off topic Kevin viene costretto a ballare su un palco mentre Jodie canta per un po' Kevin subisce il lavaggio del cervello praticato gli da Jodie si convince di essere una brutta persona che vive nella distorsione e che ha bisogno di cambiare ma a un certo punto si accorge che qualcosa non va conclude che tutte le e lucubrazione di Jodie in realtà sono delle complete stronzate che lei si inventa di sana pianta non gli piace l'influenza che Jodie sta avendo su Ruby anche perché l'unica missione di Jodie è quella di mettere moglie contro marito per un periodo Jodie va addirittura a vivere con la coppia e ripete a Ruby che lei e suo marito devono separarsi ne hanno bisogno in quanto non appartengono l'una all'altro non sono anime affini e alla fine Ruby e Kevin si separano davvero tuttavia Ruby non è affranta dal divorzio non le importa che il suo matrimonio sia finito le dà felicità il solo andare d'accordo con Jodie onestamente per quanto mi riguarda Ruby era già una persona orribile prima di conoscere Jodie ma a contatto con quest'ultima data la sua influenza negativa diventa ancora più impietosa Ruby in questo periodo decide di unirsi a Connection l'attività di Jodie e inizia a lavorare anche lei come life coach in pratica Ruby diventa il braccio destro di Jodie appare in alcuni episodi del podcast da lei curato sulle pagine dei social media di Connection e poi di nuovo in un video di Youtube dove afferma affiancata da Jodie che si sta allontanando dalla piattaforma per concentrarsi esclusivamente sull'attività dell'amica e collega Ruby tra le lacrime dice che questa è una scelta necessaria per salvare i suoi figli nonostante guadagnasse milioni di dollari grazie al canale ma alla fine aggiunge i soldi non sono importanti piuttosto deve assicurarsi che i suoi figli non vivano nella distorsione ma nella verità questa è la cosa più importante a questo punto Ruby e Jodie creano un gruppo su Facebook di nome Moms of Truth cioè Mamme della Verità di cittura con cui Ruby rinomina anche il proprio account Instagram collegato al canale YouTube nel profilo Instagram appena modificato Ruby inizia a promuovere Connection sperando che i suoi follower aderiscano alle attività proposte e le finanzino le due donne vendono corsi di perfezionamento workshop e offrono anche un servizio di consulenze individuali cercano di reclutare più persone possibili organizzano pacchetti di corsi su come vivere nella verità e uscire dalla distorsione sostenendo che tutti sono dipendenti da qualcosa gli unici intenti di Ruby e Jody sono guadagnare al massimo e far convertire più persone alla loro setta perché sì a me la loro sembra proprio una setta vogliono che i seguaci credano fermamente nei loro principi e concetti che in realtà sono molto dannosi se sul versante del lavoro Ruby ora è socia in affari con Jody dobbiamo considerare che purtroppo questa coppiata influenza anche l'ambiente familiare vale a dire il trattamento riservato ai suoi figli alla fine del 2022 Shari ha già 19 anni e si è già trasferita altrove infatti frequenta il college Chad ha 17 anni e anche lui non vive più a casa con Ruby bensì con il padre Kevin e si sta preparando ad affrontare il college le due figlie di mezzo Julie e Abby hanno 15 e 13 anni e abitano ancora insieme alla madre lo stesso vale per Russell e Eve il fratellino è la sorellina più piccoli che ora hanno 11 e 9 anni come vi ho accennato tutti i figli di Ruby sono stati maltrattati e trascurati in qualche modo prima soltanto da Ruby ora con la pericolosa complicità di Jody se però riguardo a Julie e Abby non emergono informazioni specifiche il riferimento a Eve e Russell sono noti dettagli angoscianti quindi l'accanimento si manifesta contro i figli più piccoli in questo video vi ho già raccontato con degli esempi quali maltrattamenti Ruby ha riservato alla sua ultima figlia Eve che forse ne ha subiti più degli altri ma pensate che Russell il penultimo figlio viene trattato ancora peggio ad esempio viene costretto a eseguire delle flessioni estenuanti per aver lasciato i suoi calzini in giardino in un'altra occasione Ruby va a prendere Russell e Eve a scuola prima della fine delle lezioni perché ha urgenza che si mettano a pulire le assi del pavimento quando Ruby e Kevin stavano ancora insieme durante un Natale avevano detto a Russell e Eve che Babbo Natale non sarebbe andato a trovarli quell'anno perché erano stati troppo egoisti i due poveri bambini erano stati costretti a osservare gli altri quattro fratelli che scrattavano tantissimi regali di Natale Ruby come magra consolazione aveva spiegato a Russell e Eve che in realtà loro due avevano il dono più bello di tutti quello della verità e del pentimento ho un ultimo accadimento da raccontarvi anch'esso avvenuto prima che Ruby e Kevin divorziassero all'inizio di un'estate Russell aveva usato il tablet in un momento in cui non gli era permesso di conseguenza era stato punito per l'intera stagione estiva non aveva potuto usare nessun dispositivo elettronico neanche i videogiochi e gli era stato pure impedito di uscire o di vedere i suoi amici poi durante un video come al solito Ruby aveva chiamato Russell affinché si sedesse davanti alla telecamera per parlare della punizione ricevuta Ruby aveva parlato per diversi minuti inquadrando suo figlio ma il viso del bambino esprimeva disagio e chiaro che non voleva essere ripreso ricapitolando queste manipolazioni attuate contro Eve Russell avvenivano ancora prima che Jody comparisse nelle loro vite quindi provate solo a immaginare come peggiorerà la situazione ora che c'è Jody a dettare le regole per aiutare Ruby a disciplinare i suoi figli ah ovviamente dovete sostituire la parola disciplina con abbandono per avere un'idea delle punizioni che subiranno Russell e Eve ma prima dobbiamo fare una piccola digressione per parlare della nipote di Jody che si chiama Jessie torniamo indietro di un bel po' di anni più precisamente al 2010 prima della fondazione dell'attività di Jody che come vi ricordo è una terapista autorizzata la nipote Jessie in questo periodo ha 16 anni e siccome ha litigato con i suoi genitori è stata affidata alle cure di Jody la ragazzina ha bisogno di aiuto e Jody certamente saprà come supportarla ma affinché la terapia risulti efficace Jody dice ai genitori di Jessie che la figlia deve rimanere da lei più giorni del previsto e alla fine ci resta per un anno intero Jessie durante questo anno rimane intrappolata in un tremendo incubo Jody si accanisce contro di lei perché ritiene che il diavolo in persona viva dentro Jessie e questo perché? beh perché sua nipote è lesbica Jody dice a Jessie che ha bisogno di sottoporsi a un intervento chirurgico spirituale per rimuovere Satana dall'interno la convince che sta vivendo nella distorsione e dunque che ha tantissime dipendenze come quella delle sostanze tossiche dai video a luci rosse si tratta dell'ennesima assurdità perché la sedicenne Jessie non ha mai provato delle sostanze in vita sua e non ha mai guardato dei contenuti passionali in ogni caso per guarirla da queste dipendenze Jody imbavaglia Jessie le tappa le labbra con del nastro adesivo questo per ricordarle che ciò che esce dalla sua bocca sono solo bugie Jessie subisce anche altri maltrattamenti viene presa a pugni sulla schiena trascinata in giro per i capelli costretta a patire la fame e a sottoporsi a estenuanti esercizi fisici ad esempio deve correre su e giù lungo una piccola montagnola più e più volte al giorno viene anche obbligata ad implorare Jody in ginocchio ad abbandonare la scuola e a rimanere in isolamento per 12 ore ogni giorno a Jessie non è permesso di parlare con nessuno e non le viene nemmeno permesso di usare il bagno per più di due minuti tra l'altro deve tenere sempre la porta aperta le viene addirittura impedito di usare gli assorbenti in quanto Jody li considera una forma di masturbazione in un'occasione in particolare Jessie viene obbligata a dormire sul balcone durante l'inverno e senza coperte fatalmente freddo che la ragazzina pensa di buttarsi di sotto fortunatamente dopo un anno Jessie riesce a scappare va alla polizia per denunciare gli abusi che ha subito per mano di Jody quindi viene sottratta dalle cure della zia che però non subisce alcuna sanzione a distanza di 10 anni ancora impunita Jody sta per infliggere lo stesso trattamento riservato a Jessie ai figli minori di Ruby Russell e Eve siamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 e Ruby è completamente indottrinata dal pensiero di Jody quindi assiconda ogni cosa che la donna dice Ruby inizia a isolarsi da tutti si allontana dalla sua famiglia e non permette neanche ai figli di vedere altri parenti Ruby e Kevin non parlano più inoltre la donna non ha più contatti nemmeno con la figlia più grande Shari probabilmente è stata Shari a prendere le distanze dalla madre stanca delle sue stranezze e della sua inflessibilità quindi Ruby dopo anni in cui si è piazzata in vetrina sui social vive completamente isolata con i suoi quattro figli le due adolescenti Julie e Abby e i bambini Russell e Eve Ruby li ha ritirati tutti dalla scuola sottoponendoli al solo controllo suo e di Jody anzi il sottoconsiglio dell'amica stabilisce che i due figli più piccoli andranno a vivere con Jody a tempo pieno così potranno correggere il loro comportamento dovranno affrontare un campo di addestramento per liberarsi dai loro peccati e quindi vivere nella verità come pianificato nel maggio del 2023 Russell e Eve si trasferiscono a casa di Jody mentre Julie e Abby rimangono ad abitare con la madre ogni giorno Ruby fa avanti e indietro da casa propria a quella di Jody così da tenere d'occhio tutti e quattro i suoi figli le due donne convincono i bambini che per vivere nella verità devono essere curati dal loro egoismo e a questo scopo inventano una routine brutale nei successivi tre mesi li costringeranno a sottostare a compiti e castigli estenuanti vi avviso il trattamento riservato a Russell e Eve è abominevole come detto entrambi i bambini che hanno solo 11 e 9 anni sono stati ritirati da scuola quindi per loro ogni giorno si confonde con l'altro prima di tutto per guarire dai peccati devono sottoporsi quotidianamente a un'intensa attività fisica sono costretti a completare ore di esercizi all'aperto sotto il sole coccente senza protezione solare riportando gravi e continue scottature su tutto il corpo devono anche rimanere in piedi su un pacchio di cemento senza scarpi o calzini causando ulteriori gravi ustioni o lesioni ai loro piedi a Russell e Eve vengono negati cibo e acqua regolarmente ricevono solo quanto è a malapena sufficiente per sopravvivere entrambi i bambini sono parecchio malnutriti e disidratati infatti ogni giorno rischiano di svenire tutte le volte che non riescono più a lavorare all'esterno perché sono affamati e hanno esaurito ogni energia Russell e Eve vengono puniti costretti a svolgere esercizi ancora più estremi come trasportare scatole pesantissime su e giù per le scale sono anche obbligati a stare appoggiati contro un muro in posizione squat ma senza alcuna sedia su cui accomodarsi per ore e ore quindi immaginate quanto bruciavano i loro muscoli un'altra maniera traumatica di curare il loro presunto egoismo è la priviazione delle loro cose giorno dopo giorno gradualmente gli viene portato via tutto Russell e Eve vengono privati persino dei letti quindi sono obbligati a dormire sul pavimento non hanno più accesso a libri quaderni dispositivi elettronici e non viene loro permesso nemmeno di avere del tempo libero insomma non devono fare o toccare nulla che possa dar loro anche il minimo stimolo mentale vivono in regime di isolamento non sono ammessi i visitatori non possono parlare o vedere nessuno se in casa arriva un ospite Russell e Eve vengono nascosti chiusi a chiave in una stanza sul retro con il passare delle settimane le angherie inflitte ai due bambini diventano ancora più spietate Eve viene costretta a correre avanti indietro lungo una strada sterrata senza scarpe e calzini e sotto il sole coccente le ordinano addirittura di saltare in mezzo ai cactus col risultato che la bambina si provoca dei tagli su tutto il corpo e non solo sotto i piedi Russell invece viene costretto a stare fuori casa per tantissimo tempo a qualsiasi ora del giorno e della notte se succede di giorno deve rimanere esposto alla luce diretta del sole per ore e ore senza applicare la clima solare e ovviamente senza motivo le sue scottature ormai sono così profonde che la sua pelle inizia a staccarsi inoltre ascoltate bene gli viene negata l'acqua per giorni interi e ogni volta che prova a cercare un modo per bere viene severamente punito passano in questo modo ben due mesi è il luglio del 2023 e Russell sente di non farcela più quindi prova a scappare Jodie al momento non lo controlla quindi spera di riuscire a correre da un vicino per chiedere aiuto vuole salvare sia se stesso che sua sorella ma purtroppo Jodie scopre il suo tentativo di fuga e lo castiga aspramente ora Jodie e Ruby non si fidano più di Russell devono vietare che vada in giro da solo quindi usano una corda per legargli sia le mani che i piedi in alcune occasioni usano delle manette mentre altre volte il bambino viene legato a una serie di pesi in modo che gli sia impossibile muoversi o direttamente al corpo di Ruby o di Jodie così da averlo sempre sotto controllo non c'è limite alla loro cattiveria lo trattano come se fosse un cane al guinzaglio a volte il bambino mentre le sue mani e i suoi piedi sono legati insieme dietro alla schiena viene anche costretto a sdraiarsi a pancia in giù in pratica lo incaprettano e lo lasciano così per ore e ore dato che Russell viene legato quotidianamente con molta forza stringendo tanto subisce gravi ferite ai polsi e alle caviglie le manette che lo imprigionano gli tagliano la pelle danneggiando muscoli e tessuti molli sanguina spesso e parecchio le ferite di caviglie e polsi poi rimangono scoperte formano delle croste e si infettano ulteriormente visto che Russell viene legato continuamente le sue ferite si riaprono prima di potersi sanare deve aver sofferto così tanto per curare queste lacerazioni Ruby e Jody usano dei rimedi omeopatici ad esempio ci spalmano sopra del pepe di cayenne e del miele poi applicano del nastro adesivo sulle ferite come unica barriera sotto le manette tutto ciò è davvero ripugnante ma c'è di peggio dopo la tentata fuga Russell viene tornato all'estremo Ruby aggredisce fisicamente suo figlio indossa degli stivali e lo prende a calcio gli trattiene la testa sott'acqua o gli impedisce di respirare schiacciandogli le mani sulla bocca e sul naso Ruby si comporta in questo modo per spaventare Russell e indurlo a non scappare mai più nello stesso tempo lei e Jody non dimenticano di intimidire Eve per assicurarsi che non provi a fuggire come il fratello mentre approfondivo questo caso mi sono chiesta perché Ruby e Jody facessero queste cose orribili insomma qual è il loro scopo come sapete le due donne giustificano i comportamenti ripugnanti che assumono contro i due bambini dicendo loro che meritano questi maltrattamenti a questi a** dato che sono malvagi e posseduti dal maligno hanno bisogno di espiare i loro peccati così purtroppo quel tempo Eve e Russell si convincono che Ruby e Jody hanno ragione sono bambini cattivi ecco perché vengono maltrattati Ruby arriva a definire gli a** perpetrati come un atto d'amore nei confronti dei suoi figli arriviamo ora alla fine di agosto del 2023 Russell e Eve sopportano questi maltrattamenti sempre più intensi da 100 giorni il che per me è inimmaginabile purtroppo mi viene da commentare che segnali di pericolo c'erano già ed erano palesi sia nel caso dell'operato di Ruby che di quello di Jody eppure le autorità non hanno mai voluto intervenire avrebbero potuto evitare questi risvolti ancora più dolorosi ma fortunatamente la fine del male si avvicina perché Russell incredibilmente trova la forza e il coraggio di provare a scappare di nuovo il 30 agosto 2023 Ruby e Jody sono fuori casa Russell viene sempre legato quando è da solo ma stavolta le sue aguzzine si sono dimenticate di farlo o può anche essere che Russell sia riuscito a liberarsi in qualche modo il bambino prova a scappare di nuovo dalla parte anteriore della casa di certo è terrorizzato teme che Jody possa tornare da un momento all'altro ma si impone di procedere verso l'abitazione di un vicino bussa alla porta e gli chiede gentilmente aiuto il vicino di casa inorridito chiama immediatamente i servizi di emergenza sanitaria gli è bastato dare un'occhiata veloce a Russell per capire che il piccolo è in pericolo ha ancora del nastro adesivo attaccato ai polsi e alle caviglie sembra malnutrito e risidratato esibisce tagli lividi e bruciature su tutto il corpo nella chiamata al 911 che verrà rilasciata al pubblico il vicino di casa spiega la situazione e si sente in sottofondo la voce di Russell che risponde in modo educato a tutte le domande che gli vengono poste infine dice se ho subito tutto questo è per colpa mia onestamente questa chiamata mi spezza il cuore non capisco davvero come due donne possano aver maltrattato e aggredito così un bambino fortunatamente ora Russell è al sicuro la polizia arriva e salva anche Eve ritrovata in uno stato simile a quello del fratello entrambi i bambini hanno bisogno di cure quindi vengono portati all'ospedale quando Jody rincasa la polizia la arresse immediatamente perquisisce la sua abitazione e individua tutte le prove delle torriere e degli abiti praticati i detective scoprono che i due bambini sono stati legati affamati disidratati costretti a inauditi sforzi fisici una volta apprese queste informazioni si dirigono subito a casa di Ruby e arrestano anche lei i familiari di Ruby dichiarano a DailyMail.com che la donna se condannata per gli abiti e i suoi figli dovrebbe rimanere rinchiusa per sempre il giorno successivo il 31 agosto 2023 tutte le azioni riprovevoli commesse da Ruby e Jody vengono rese note al pubblico si diffonde la notizia che la mamma youtuber proprietaria del canale prima chiamato Hate Passengers è stata arrestata con l'accusa di abiti sui minori è la stessa Ruby a cancellare il suo canale youtube forse nel tentativo di liberarsi di qualche prova che la polizia avrebbe potuto usare contro di lei molti youtuber americani però si fanno avanti dicendo che avevano già pubblicato dei video per mettere in luce i comportamenti feroci e sconsiderati di Ruby diversi anni prima in pratica dicono ragazzi ve l'avevamo detto col passare dei mesi Ruby cerca in tutti i modi di vincolarsi da questa situazione e prova a dare la colpa esclusivamente a Jody Ruby afferma che Jody le aveva fatto il lavaggio del cervello e l'aveva manipolata a mio parere queste sono tutte bugie visto che Ruby trattava già male i figli prima che Jody facesse il suo ingresso nella storia si può però dire che Jody ha reso gli abiti più estremi Ruby sempre per cercare di giustificare le sue insensate e brutali punizioni si inventa che Russell quando aveva tre anni era stato sorpreso mentre guardava dei contenuti a luci rosse rendetevi conto che Ruby arriva ad affermare che Russell per anni aveva abbandonato intimamente dei suoi fratelli e di alcuni bambini del quartiere credo che ci voglia un foltopelo sullo stomaco e una mente deviata per concepire una bugia del genere sul proprio figlio Ruby prova a raccontare queste e altre storie alle false ma non può affermare la valanga di prove reali pronta a sommergere sia lei che Jody nel frattempo parlando esclusivamente alla redazione di Daily Mail.com anche le cognate di Ruby ossia Cynthia e Jennifer Frankie affermano che la donna sta mentendo e che sarebbe disposta a dire qualsiasi cosa pur di salvarsi abbandonata ogni speranza di ingannare gli altri nel dicembre del 2023 Ruby e Jody si dichiarano colpevoli di quattro accuse di abuso sui minori il 20 febbraio del 2024 vengono entrambe condannate e durante la sentenza Ruby si impegna a offrire una performance da premio Oscar simulando un certo rimorso poi inizia a ringraziare chiunque in particolare gli agenti che l'hanno sorpresa e arrestata perché hanno salvato i suoi figli pronuncia tutti i loro nomi uno per uno ringrazia anche il vescovo della chiesa che frequenta e tante altre persone non ho mai assistito a un comportamento del genere approfondendo nessun altro caso per me è bizzarro Jody invece decide di percorrere una strada diversa da Ruby lei non mostra alcun rimorso e ancora oggi afferma di non aver fatto nulla di male ma vediamo in cosa consiste la sentenza Ruby e Jody vengono condannati a una pena compresa tra 1 e 15 anni per ogni conteggio di abusi sui minori che ammontano a quattro capi di imputazione la situazione in realtà mi risulta il quanto confusa nello Utah perché gli imputati ritenuti colpevoli non vengono condannati a un numero specifico di anni ma appunto a un periodo di tempo più flessibile ogni piena richiede di essere scontata consecutivamente quindi Jody e Ruby potrebbero rimanere rinchiuse per un minimo di 4 anni un anno per ogni capo di imputazione fino a un massimo di 60 anni 15 anni per 4 capi di imputazione spetterà in realtà la commissione per la libertà condizionale determinare quanto tempo servirà effettivamente per ciascuna accusa quindi ora non sappiamo con esattezza fin quando Ruby e Jody resteranno in carcere questo ci porta alla fine di questo video perché questo è l'epilogo del caso della mamma youtuber Ruby Frankie del suo canale youtube 8 Passengers e della sua socia Jody Hildebrandt ho provato a realizzare per voi un video il più completo possibile ma non sono riuscita comunque a includere tutte le informazioni presenti in internet su questo caso questo perché a riguardo ci sono davvero tantissime fonti e tantissimi video online più di mille anche se il canale di Ruby non esiste più molte persone hanno ripubblicato i suoi video preventivamente scaricati dagli spettatori che all'epoca già li consideravano contenuti problematici dunque avrei potuto raccontarvi molti altri esempi di come Ruby sia una persona e una madre orribile l'aver letto di tutti questi assurdi e feroci maltrattamenti praticati su dei bambini in molti momenti mi ha mosso le stesse emozioni suscitate dal caso della famiglia Mauerova di cui vi ho già parlato in un altro video anche in questo caso mi chiedevo come Ruby potesse far soffrire così i suoi stessi figli sono inoltre convinta che Jody sia stata un'autentica leader settaria spacciava la sua attività per legittima presentandola con una connotazione assistenziale mentre invece portava avanti una setta e ci ha trascinato dentro anche Ruby una madre che già trattava i figli in maniera preoccupante ma che insieme a Jody è diventata diabolica a dir poco credo che ora Ruby abbia finalmente ottenuto ciò che davvero merita suo marito non ne vuole più sapere di lei e i suoi quattro figli più piccoli sono attualmente affidati alle cure del dipartimento dei servizi per l'infanzia e la famiglia Shari la primogenita ha pubblicato un post sull'arresto di sua madre su Instagram condividendo una foto degli agenti di polizia fuori da casa sua immagine corredata dalla didascalia finalmente come detto Shari aveva interrotto i contatti con la famiglia prima ancora dell'arresto di Ruby ad aprile del 2023 dice che fare terapia l'ha salvata dai numerosi attacchi di panico che accusava dopo aver vissuto tanti anni a contatto con sua madre infine anche Chad il primo figlio maschio di Ruby che era andato a vivere con il padre è attivo su Instagram pubblica foto e video dove appare in compagnia degli amici e di una ragazza io ho finito davvero di parlare di questo caso vi ho anche detto quali sono le mie opinioni conclusive quindi ora lascio la parola a voi scrivetemi qui sotto nei commenti cosa pensate di questo caso per me è davvero agghiacciante terribile la trovo davvero una cosa terribile trovo terribile che Ruby abbia avuto la possibilità di trattare male i suoi figli per anni raccontando poi di questi maltrattamenti su internet è assurdo che non l'abbiano fermata prima onestamente detto questo io attendo i vostri commenti attendo le vostre opinioni non vi do l'ora di leggere insomma i vostri commenti e cosa ne pensate di questo caso e nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!